Ciao a tutti ragazzi con Lorenzo24 e oggi siamo su Plant vs Zombie Sì, non ho ancora giocato a sto videogioco che ho installato veramente ieri Ah, è la mia casa Che è brutta per una casa davanti E sarà ancora più brutta dopo Ok, fatto Lalalalalala Guarda E poi torna tranquillo E poi torna Ok Minchia che orda Cioè non muori direttamente per lalalala ma muori per colpa di Ok Continua Ok, cambia il gioco Adesso mi si aggiungono altri due pezzi d'erba Warframe Warframe dai, torna davanti in Warframe Warframe è coperto dal copyright Non possiamo dire Warframe Sì, ha il copyright Warframe No, perché se No, le canzoni di Warframe Infatti Secondo te io sono scemo e lascio il volume Come, cosa hai scelto di arma, il bow, la spada o cosa? No, sì, io ho già comprato tutte le armi che mi potevo permettere Intanto ho 20.000 crediti Ho preso tutte quelle che si possono comprare Anche di più Che vuoi? Io ho sudato Ho sudato per due armi Tu arrivi E ho preso tutte le armi Perché avevo il Cosa vuoi se su Switch mettono Non mettono le offerte lì Come PlayStation Ah, ma tu ne hai preso in offerta Con tutte le armi No Ho preso il pacchetto Grazie a PlayStation Network Che cacchio vuoi? Io mi sono sudato delle armi Tu arrivi così Ce le ho tutte Muori Ma se mettiamo della musica nei tuoi video Che non hai ancora 100 iscritti Secondo te la copierai Non credo Oh 31 messaggi Già? La classe che resta 3 Ok La classe che resta 1.05 Ok Oswaldini al top 22 Sì Non chiedetevi perché i nomi Perché così Oswaldini al top Ah Seguite anche il mio account su Instagram Mi raccomando Ok Adesso ho anche io un account Ah è vero Mi sono dimenticato di Instagram Andatemi a seguire su Instagram LorenzoLal24 Pietro Pietro punto a Il trattino basso A Il trattino basso Non rompetemi i coglioni Devo proprio scrivere i messaggi Devo scrivere i messaggi A 100.000 persone In cui Sto facendo i video Non rompetemi Coglioni Voglio vedere adesso Le armi che hai Che Che sono pure Curioso Allora Non hai per una persona doppia Quindi Ti è No Non ce l'hai Zucca Blocco maestria Blocco maestria Cioè tu potevi avere Tutte queste armi Se non aveva Il blocco maestria Cosa serve il blocco maestria Devi essere Molto bravo A giocare Ah Però hai il bo Hai queste che io Mi sono sempre chiesto Che cos'erano Senti Però voglio Un colpo di Ehm Quando Quanta Quanta Trazione Ok Uso la quanta Perché mi tolgo il video Ehm Ah Però questa è la Le c'entri Lei Ecco Lollo sei un coglione Perché non l'hai potenziata Mettendo tutte Ste robe Che madonna La fai diventare Cosa Sti potenziamenti Mettili tutti Sempre Tanto son 4 Ci vanno giusti Ah Quella non può Mettere 2 Cioè Guarda ora Quanto più danno Ti fa Ma che roba E la special Questa L'hai mai usata? Sì Ok Anche qua Secondo me Eh Ah no Ok Ok Hai messo qua Però Metti tutto Eh Corpo Corpo Eh Ce ne abbiamo Qua Metti Adesso Adesso Non interessa Olla Ora La produzione Ma tu sei già qua Eh Sei già qua Quanto c'è nel dato Poco Poco quanto Non è ancora sbloccato Fortuna La rete non risponde Eh Cazzo Meno Gioco Fulani Ah no Fortuna L'hai sbloccata Però devi fare tutte le missioni Non è ancora sbloccato Non è ancora Non è sbloccata Ok La terra Si avrei per forza Ha fatto tutto No No Non proprio Questo Eh Ok No Spero 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 Zitto Qua Ok Allora No Ok Non è che arrivi lord Prepariamo la bomba Tre Faccio scavo Guarda Missione scavo Che io La prima volta Ti giuro Ho letto Schiavo E pensavo Di dover Diventare schiavo E poi Ucciderli tutti Dall'interno Ma poi Si è capito Come gli altri Che è una missione Di quelle Entri Spacchi tutti Culi Esci Tutti con la navetta Principale Non con la navetta Quella figia Navetta Che poi Lollo Non so A te Ma Non credo Non ti sei ancora Attaccato il virus Allora 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 Sei tanto Di dietro No Non c'è Inventata Niente Ma quale virus Ti si attaccherà un virus Ti dico solo questo Così Così Minchia Quanto è Ok Dove capire Un secondo I tosti Quanto è Inventata Si Ok Finisco Finisco Sto partito Ci dobbiamo Un solutore Cheat Adesso Lorenzo No Comunque Ti ho detto Niente spoiler Ma quanto te lo spoilerà Anche il gioco Ti Si attaccherà Un virus Viola Qua al collo E Ti si sblocca Anche una stanza Insieme Che È Una stanza Virus Per toglierti Cosa Se non I virus Ma perché funziona Così Ovvio Come hanno fatto Come hanno fatto Estreparare il cancro Dalla terra Così Con la stanza Con un virus No Con la stanza Per i virus Che poi Userai Una volta In tutto il gioco E poi Non la toglierti Mai più Perché non Ci si attacca Più Con il virus Cioè Sono in una Mission Una Finita Quella missione Basta Virus Per tutto il gioco Allora Chi gioca Warframe Levi Il volume Del telefono Ah cazzo È vero Che sto facendo Un sacco di spoiler Tipo Opsi Protagonista Muore No Non è vero Ma quello è un altro gioco Skyrim Il protagonista Muore Anche tante volte Beh fino a Prova contraria Essendo tu il protagonista In ogni gioco Muori sempre Cioè Che poi Sì Ci sono quelli che dicono Eh ma Il protagonista Non muore In nessun gioco Coglione Sei tu il protagonista E quante volte Sei morto Nei giochi Non hai fatto Il bullet jump Ragazzi Se avete Warframe Sarete sconvolti Come me Non ho fatto Il bullet jump È la prima Cosa Questo jump L'hai mai fatto? No Ho visto Che saltavo un paio di volte E poi menavo Non l'hai mai fatto? No Questo Mai Non l'hai mai fatto Il bullet jump Perché mi è arrivata adesso La Notifica della missione Bullet jump Non l'hai mai fatto Non l'hai mai fatto Bullet jump No ma forse mi sembra di averlo fatto Quante volte? No non l'hai fatto manco una Perché non ti si è sbloccata la missione Non l'hai fatto? Ah no L'avevo fatto L'avevo fatto su un altro Accanto di un mio amico Ah ecco Almeno l'hai fatto Si però l'aveva già fatto Per questo che Non l'hai mai fatto Il bullet jump Ragazzi Allora io mi potrei lamentare che non l'hai mai giocato ai veri classici Ai veri videogame Classici Si Che non sia pacman Vabbè Ho giocato a pacman Ok Un classico No Ho giocato anche Cos'era già Aspetta Scusa generica A parte Anche space invaders Non vale Eh no Space invaders Un classico Lo so Ma tutti credo che lo conoscano Boh A parte i 2010 Come che si chiamava quel gioco Cazzo Ah il primo super mario ho giocato Non è veramente super mario Non hai mai fatto il bullet jump Ma guarda che il primo super mario non era proprio un classico di quei classi Minchia Più classico di lui E tipo Ma quello era da console Non da sala giochi Ah ma dici No c'era anche sala giochi No ma Si arriva Arrivo Da Renzo 24 di tutti Iscrivetevi Condividete Lasciate un pollice Se non andate a seguiremi su Instagram Yes No c'era anche se non andate a seguiremi su Instagram No c'era anche se non andate a seguiremi su Instagram